Giovedì 28 febbraio, Regione Lombardia assumerà la presidenza di EUSALP, la strategia macro-regionale che promuove la cooperazione fra 48 regioni dell'arco alpino appartenenti a 7 paesi diversi dell'Unione Europea. Dal Tirolo, che ha guidato EUSALP nel 2018, la presidenza passa dunque alla Lombardia, che coordinerà i lavori per tutto il 2019. Fra i progetti in discussione, lo sviluppo e la valorizzazione del passo dello stelio.